Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video degli alusisi, io sono Falcos e io non sono Alex Quindi oggi siamo in live di nuovo, sempre il link del canale Twitch sempre in descrizione Insieme a noi oggi ci sarà di nuovo Naked Ciao ragazzi E' un nuovo arrivato, ok, che hai thunder E' The Dark Lord E' The Dark Lord Che non può parlare Che non può parlare, comprati un microfono Ok Se lo regaliamo a noi il live per i miei iscritti Sei il nostro first fan e non hai un microfono per parlare a noi, c'è vergogna No, per i miei iscritti facciamo il regalo, dai Per i miei iscritti un microfono a The Dark Lord, vai Quindi ragazzi noi siamo in live, venite a trovarci Ci farà molto piacere e se volete giocare a noi, aggiungeteci E noi gioeremo con voi in live Quindi ragazzi ci vediamo, ciao ciao Bella